E' un po' di pericolo. a 14 e di mucca e dà lo stesso sapore di bellicisci un po' tu e un po' mamma è allo stesso sapore un po' pure vero? qui, sì aspetta, Francesco di là no, forse è di vento a noi ci piazza a 4 metri che arriva a mezzo uno è benzo, una metri praticamente la piazza è 2 metri e 70 ciao ragazzi faccio un piccolo video promozionale ciao